Annabeth. Annabeth non aveva mai avuto paura del buio, ma di norma il buio non era alto dodici metri, non aveva ali nere, un frustino fatto di stelle, né un carro di tenebre trainato da cavalli vampiro. Mix era quasi troppo da assimilare. Incombendo sul baratro, era una sagoma vorticosa di cenere fumo, grande come la statua di Atena Parthenos, ma molto viva. Aveva vesti nere come il vuoto, mischiate ai colori di una nebulosa, come se le galassie nascessero dal suo corpetto. La faccia non era ben visibile, tranne le pupille, che scintillavano come quasar. Quando Nyx batteva le ali, ondate di oscurità rotolavano oltre i dirupi, procurando ad Annabeth una sensazione di pesantezza e sonnolenza, e offuscandole la vista. Il carro della dea era costruito con lo stesso materiale della spada di Nico di Angelo, ferro dell'ostige, ed era trainato da due enormi cavalli, completamente neri, salvo per le zanne d'argento. Le loro zampe fluttuavano nell'abisso, e muovendosi si trasformavano in fumo. Quegli oscuri destrieri mitrirono, e mostrarono le zanne ad Annabeth. La dea sferzò il frustino, una sottile striscia di stelle simile a punte di diamanti, e i cavalli si impennarono. «No, ombra! Giù, tenebra!» «Questi minuscoli premi non sono per voi!» Percy scrutò i cavalli. Era ancora avvolto dalla foschia della morte, per cui sembrava un cadavere sfocato, tanto che ad Annabeth si spezzava il cuore ogni volta che lo guardava. E non doveva neanche essere un granché come camuffamento, visto che Nyx li vedeva. Annabeth non riusciva a decifrare bene l'espressione sulla faccia di Percy, ma a quanto pareva non apprezzava i discorsi dei cavalli, qualunque cosa dicessero. «Eh, quindi non lascerai che ci divorino?» domandò Percy alla dea. «Ne hanno una gran voglia?» «Certo che no!» Gli occhi quasar di Nyx sfavillarono. «Non gli permetterei di divorarvi, più di quanto non permetterei ad Aclis di uccidervi!» «Dei premi così belli!» «L'uccisione spetta a me!» Annabeth non si sentiva particolarmente arguta né coraggiosa, ma l'istinto le suggerì di prendere l'iniziativa, o quella conversazione sarebbe finita molto presto. «Oh, non ucciderci!» gridò. «Non siamo così spaventosi!» La dea abbassò il frustino. «Cosa? No, io non volevo dire, beh, spero proprio di no!» Annabeth guardò Percy e fece una risata forzata. «Non volevamo spaventarla, vero?» «Ah!» replicò Percy con un filo di voce. «No, no, figurati!» I cavalli vampiro erano perplessi. Si impennarono, nitrirono e sbatterono le teste l'uno contro l'altro. Nix tirò le redini. «Sapete chi sono?» domandò in tono imperioso. «Beh, sei la dea della notte, suppongo», rispose Annabeth. «Sì, insomma, si capisce. Sei buia e via dicendo. Anche se il Deplian non diceva quasi niente di te!» Nix chiuse un attimo gli occhi. «Quale Deplian!» Annabeth si tastò le tasche. «Ne avevamo uno, no?» Percy si leccò le labbra. «Sì, certo! Stava ancora osservando i cavalli, con la mano stretta sull'elsa della spada, ma era abbastanza sveglio da seguirla. Annabeth doveva solo sperare di non peggiorare le cose, anche se a dire il vero dubitava che potessero andare peggio di così. Comunque, immagino che il Deplian non dicesse granché, perché non eri una delle attrazioni principali del tour, riprese. Siamo riusciti a vedere il flegetonte, il gocito, le rai, la palude velenosa di Acliss, perfino alcuni titani e qualche gigante. Ma Nix... no, non eri messa in evidenza». «Messa in evidenza? Una delle attrazioni principali?» «Esatto», intervenne Percy, appassionandosi all'idea. «Siamo venuti qui per il tour del Tartaro. Una destinazione esotica, tanto per cambiare!» «Gi inferi sono troppo sfruttati e l'Olimpo ormai è così turistico...» «Oh, dai, quanto è vero!» concordò Annabeth. «Per questo abbiamo prenotato un'escursione nel Tartaro. Ma nessuno ci ha mai detto che ci saremmo imbattuti Nix. Ma... vabbè, forse pensavano che tu non fossi importante?» «Non importante!» Nix fece schioccare la frusta. I cavalli diedero una sgroppata e batterono le zanne d'argento. Ondate di oscurità arrotolarono fuori dall'abisto, trasformando in gelatina le viscere di Annabeth, che però non poteva mostrare di avere paura. La figlia di Atena spinse giù il braccio con cui Persi impugnava la spada, costringendolo ad abbassare vortice. Nix era una dea che andava oltre tutto ciò che avevano mai affrontato. Era più antica di qualsiasi altro dio dell'Olimpo, titano e gigante. Era perfino più antica di Gea. Non poteva essere sconfitta da due semidei. Non con la forza, perlomeno. Annabeth si costrinse a guardare l'enorme faccia scura della dea. «Beh, quanti altri semidei sono venuti ad ammirarti durante il tour?» domandò con aria innocente. «Nessuno. Nemmeno uno!» Nix allentò la presa sulle redini. «È inaccettabile!» Annabeth scrollò le spalle. «Forse è perché non hai fatto niente per finire sui giornali. Insomma, posso capire che Tartaro sia importante e ha dato il nome a questo posto. Oppure, se potessimo incontrare Giorno...» «Oh sì!» concordò Percy entusiasta. «Giorno? Lei sì che sarebbe formidabile! Vorrei proprio conoscerla! Magari potrei chiederle un autografo!» «Giorno!» Nix afferrò la sponda del carro nero. Tutto il veicolo fremette. «Puoi dire, Emera, è mia figlia! Notte molto più potente di Giorno!» «Eh!» intervenne Annabeth. Io preferivo le Arai o addirittura Acliss. «Anche loro sono figlie mie!» Percy soffocò uno sbadiglio. «Hai un sacco di figli, eh?» «Sono la madre di tutti i terrori!» urlò Nix. «Le parche! Ecate! La becchiaia! La sofferenza! Il sonno! La morte! E tutte le maledizioni!» «Non merito forse di finire sui giornali?»